Si sono incontrati presso la sede dell'ente parco nazionale dell'asilo all'orica gli stakeholders del territorio e rappresentanti di istituzioni aderenti alla carta europea del turismo sostenibile per discutere dell'avvio della seconda fase della carta conferita da Europark Federation al parco nel 2011. Si tratta di uno strumento che impegna tutti coloro che vi aderiscono, il parco, le imprese e le istituzioni locali ad attuare un piano volta ad incentivare il turismo sostenibile e ad indirizzare tutte le attività turistiche del territorio verso i principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale con la diretta partecipazione e il contributo dei vari attori territoriali. Questa seconda fase comporta la creazione di accordi in rete fra il parco e gli operatori territoriali finalizzati alla strutturazione di un'offerta turistica sostenibile che possa essere poi promossa e commercializzata nella terza fase attraverso tour operator indicati da Europark Federation. Gli interventi degli operatori economici sirani hanno messo in evidenza il ruolo importante svolto dall'ente parco a supporto delle piccole e intraprendenti in realtà territoriali sirane. Sono molto contenta di aver partecipato a questa Summer School perché ci ha dato la possibilità di conoscerci già dall'anno scorso fra i piccoli imprenditori di cominciare a creare una rete proprio per creare una sinergia fra le nostre varie attività che sono appunto quelle ricettive, ristorative, sportive e tutte quelle che riguardano ciò che offre il parco nazionale. Grazie a questo comunque abbiamo pensato di proporre dei piccoli pacchetti turistici che noi singoli non possiamo proporre però proposti a un tour operator potrebbero essere interessanti in quanto il nostro territorio offre delle caratteristiche che non ha ad esempio quasi nessun altro territorio che sono ad esempio la vicinanza tra il mare e la montagna. Quindi creare un pacchetto con vacanza in montagna e vacanza al mare è una cosa totalmente innovativa perché in mezz'ora noi possiamo essere sul marionio e usufruire del parco nazionale della Sila e anche dell'area protetta ad esempio dell'isola Caporizzuto.